Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Gremory. Oggi una piccola chicca, un piccolo video anche perché mi si dice ma come mai ultimamente non ti stai inquadrando mai, ma come mai ultimamente non ti vediamo? Non sono un grandissimo spettacolo, comunque sono qui, oggi sono qui. Stavo girando un altro video da proporvi sul canale, solo che è un lavoro un po' lungo e quindi ho di là l'operapia che si sta asciugando e quindi ho dovuto interromperlo affinché si potesse asciugare e io potessi andare avanti con quel video. Nel frattempo ho detto che faccio, dico due paroline io, anche perché mi propongo sempre di accendere la telecamera e di dirvi qualcosa, però poi alla fine magari non lo faccio, non ne ho il tempo. Quindi ne approfitto oggi e scambio con voi due parole, però due parole molto importanti e vorrei veramente che mi ascoltaste. Io mi rivolgo a tutte quelle persone che questo video è fatto, stasera è realizzato affinché si facciano meno errori quando si commissiona della ritualistica, perché vi posso garantire che in esoterismo niente è certo, però voi contribuite notevolmente. In esoterismo niente è certo perché un rito non riesce per vari motivi. Ho già trattato l'argomento, ho fatto due video molto lunghi anche sull'argomento, quindi non starò a riprendere quei video perché li trovate sul canale, perché un rito non riesce. Li ho approfonditi, era ancora il periodo in cui io facevo video interminabili e parlavo con voi, ho approfondito l'argomento, ho fatto un'ora di video fra un e l'altro proprio per cercare di spiegare al meglio ed evitare che si facessero degli errori. Ma a quanto pare non è bastato, a quanto pare molti di voi quei video neanche li hanno visti, oppure li vedono però è più forte di voi. Un rituale non riesce perché magari quella persona a cui l'avete commissionato non è una vera strega, non è un mago, o vi sta fregando i soldi oppure comunque si sente strega, si sente mago perché si sogna la nonna di notte, quindi sai io percepisco, vedo presenze, mi sogno mia nonna di notte morta, mi capita di avere un presagio e poi quella cosa si avvera e quindi questi secondo le persone sono poteri magici, questi non sono poteri magici, è un'eccessiva sensibilità, a casa mia si chiama sesto senso, oppure anche comunicare con i defunti si chiama medianità, non si chiama avere poteri magici, quindi potete incorrere in una di queste due categorie, la finta strega o mago comunque, io parlo femminile, che vi sta truffando comunque con lei o con lui che si sente strega con dei poteri perché dentro di me mi sento qualcosa ma in realtà non sa girare l'uovo per fare lo zabaione e quindi può non riuscire, può non riuscire perché quella persona è veramente una strega ma in quel momento sta lavorando con delle vibrazioni basse perché ha poca energia o comunque poca energia ce l'ha perché gliela state risucchiando. Quando la strega si occupa di una, vogliamo chiamarla utente, dà a quella persona dell'energia personale, invece di usarla per la ritualistica la maggior parte delle volte si ritrova a doverla utilizzare in chat e quindi piuttosto io che lavorare con Giovannina per esempio invece di utilizzare quell'energia per Giovannina in un modo la devo utilizzare perché mi scrive dieci volte al giorno e io dico sempre la regola più importante è fai e dimentica. Un lavoro esoterico non sempre riesce perché chi vi dà certezza di riuscita è perché vi vuole invogliare a mandare quei cavolo di soldi in maniera tale che li ha incassati e poi magari vi bloccano anche. Chi vi dà certezza in esoterismo vi sta imbrogliando, vi sta solo incoraggiando ad effettuare un pagamento. In esoterismo non ci sono certezze, si fa una richiesta all'entità, quell'entità può essere predisposta ad accoglierla come no, quindi quella richiesta può essere accolta o meno. La strega può anche fare vari tentativi però a un certo punto deve interromperli perché dopo un po' di mesi che si lavora ad un rituale anche la strega capisce che quella richiesta diciamo non può essere accolta, d'accordo? E quindi si arrende anche lei. Motivi per questo sono delle richieste per esempio impossibili. Mi è stato chiesto per esempio di fare dei legamenti e apro una piccola parentesi. In esoterismo il lavoro che riesce di meno è appunto il legamento. A uomini per esempio parlo del femminile perché sono una donna ma anche uomini me l'hanno chiesto per legare una donna. Uomini che hanno visto solo una volta, cioè delle persone che mi chiedono sai ho conosciuto ieri, avanti, una settimana fa questo ragazzo ci sono uscito una volta vorrei legarlo a me. L'entità non vi può mai accogliere una cosa del genere perché l'entità non può sopportare l'indecenza che tu hai conosciuto un lunedì e sabato gli vuoi fare un legamento perché neanche tu sei certa di amarlo. Lo dovresti conoscere, lo dovresti apprezzare, amare piano piano. L'amore è una cosa sì, il colpo di fulmine è bellissimo, le farfalle allo stomaco però poi tu quella persona ci devi stare, quindi perché la devi legare? Non potete conoscervi in maniera normale, innamorarvi e fare un percorso di vita, chiamiamolo normale senza l'intervento della magia? Ecco mi è stato chiesto di legare degli uomini che sono stati visti una massimo due volte. Allora io direi di cominciare magari chiedendo dei lavori su delle persone che conoscete, con le quali ci siete già stati in maniera affettiva, romantica, che è una storia che è finita, è finita in malo modo, è finita perché ci sono, si sono messe delle persone in mezzo e quindi hanno fatto in modo di farvi litigare, di creare dei casini, dei fraintendimenti che non riuscite a chiarire, quindi mi chiedete di togliere dei blocchi, di fare ritornare il padre dei vostri figli, ma non una persona che avete conosciuto lunedì e voi già mi commissionate il legamento di giovedì o di venerdì. Un altro motivo è che per esempio mentre la persona mi sta facendo lavorare su un uomo, questa qui, questa tizia, quest'utente, si dedica anche a altre persone. Questo non vuol dire che se io devo aspettare un anno che quel lavoro esoterico vada in porto, non possa vivere la mia vita e tentare anche di conoscere una persona e nel frattempo innamorarmi perché va bene, però una persona ogni settimana e portarcela a casa, l'entità non vede la nostra serietà nella richiesta, non vede il nostro amore. Un altro dei motivi per cui soprattutto il legamento non riesce è stare col pensiero fisso su quella persona e Gremory sta lavorando il mio rituale, chissà se va bene e chissà se lo sta facendo e ma aspetta allora, io ora vado a vedere, ma come mai non mi scrive? Ma Gremory è una settimana, come mai non mi sta scrivendo? Ecco, il vostro pensiero scatena un'energia, un'energia contraria a quella che sto manovrando io e quindi il rituale se ne va a monte. Umanamente io non vi posso dire non pensare all'uomo che ami, non pensare alla donna che ami, perché altrimenti io non ti chiamo Gremory per effettuare un legamento se poi io quella persona non la devo pensare, se è così semplice non la penso e vado avanti, però una cosa è pensare alla persona che si ama e comunque avere il cuore e la testa dedicata a questa persona, un'altra cosa è diventare manioco, ossessivi e scrivere tutti i giorni alla strega abbassando la sua energia. Ciao Gremory, allora come va? Tesoro io ho cominciato il tuo lavoro una settimana fa che ti devo dire, no 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 ma io era solo per un saluto. Ora se pensate che magari io possa essere cretina, deficiente, no è che voglio vedere come va. Eh no non va, non va così, voi dovete farla lavorare la strega. Una volta non c'era whatsapp che potevate tritarle ogni minuto, la domenica, la sera alle nove, con tutte le scuse di questo mondo per vedere se attacco il discorso. Gente che ogni settimana mi chiede un consulto e io dico tesoro ma guarda che le carte mentre c'è in atto un rituale non si possono fare. E se ve lo dico è perché veramente quel rito è in atto. Perché se io fosse una ciarlatana, una ladra, quei soldini del consulto per me sarebbero budget. Quindi vuoi fare un consulto? Una settimana? Troppo poco ma anche due te ne faccio. Io invece i miei lavori ci tengo e gli altari sono veramente pronti e fatti per voi. E quindi io so che fare quel consulto mi porta sì un guadagno in quel momento ma distrugge il rituale perché le carte non si possono fare e ci sono persone che durante un rituale si sono fatte fare le carte anche da altre persone decine e decine di volte. Poi dalla diagnostica mi esce. No io gremo di chi giuro mai. Mentire alla strega è come mentire al medico. Io lo stesso comunque lo vengo a sapere perché ho mille modi. E tu che cosa hai concluso? Che mi hai mentito però il risultato non cambia. Un altro motivo per il quale per esempio un legamento non riesce è che questa persona per dire che voi avete chiesto di legare sei mesi, sette mesi che vi ha bloccato su whatsapp, non si fa vivo, è arrivato il vostro compleanno, non vi ha fatto neanche gli auguri, appena trascorso il Natale manco auguri, manca Pasqua, auguri che magari pure un estraneo li fai. A un certo punto siccome magari a corto di soldini è il primo centro di piacere a pagamento magari è lontano e vi chiama perché sa che siete disponibili e avete capito anche a che cosa. E allora questa persona vi manda un messaggino o bussa alla vostra porta con una scusa e voi dopo due secondi, care femminucce, siete a letto con loro. Questo è un canale di esoterismo maggioculto dedicato agli adulti quindi posso dirlo con le gambe a portafoglio, subito così. Cioè questi sei mesi che non vi ho dato neanche gli auguri al compleanno e voi subito ma cremo io facevo l'amore con lui, tu facevi l'amore ma dall'altra parte te lo dico io che cosa c'era. A parte che perdete la dignità, in esoterismo è un errore immenso da fare perché la fase che si chiama del ritorno, cioè quella fase in cui la persona vi ha bloccato, non c'è, non ha contatto, a un certo punto li riprende, rientra nella vostra vita, non è tornato con voi, non fa parte della vostra vita però è ritornato, appunto si chiama ritorno. Ecco care amiche, care amici, questa è la fase più delicata del legamento, la fase in cui se voi sbagliate un solo colpo è finita e la maggior parte delle volte poi è irreversibile perché anche se la strega rifà il lavoro l'entità non l'accoglie più. Quindi chi mi sta ascoltando, chi sta ascoltando questo video, quello che vi voglio dire, la dignità prima della magia, prima dell'esoterismo, non vi ha cercato per sei mesi, voi state soffrendo per quella persona. La cosa più bella che vi potesse capitare è chi vi ricontatta, però deve capire che vi deve rispettare perché vi dovete ricordare una cosa, se non vi rispettate voi, se voi non rispettate voi stesse, la vostra persona, come potete pretendere che lo faccia qualcun altro, che lo faccia un'amica, che lo faccia una persona che amiamo, non potete pretenderlo, quindi dovete rispettarvi. Se è tornato, ok, ma sicuramente io non sono disponibile perché il primo centro benessere di piacere, di massaggi relax tantrici è guarda in fondo a sinistra, tu svolti e c'è la palla rossa che fanno i massaggi cinesi, magari ti puoi rivolgere a loro perché io non sono disponibile. Questo è il modo di reagire. Dice ma Gremori, cavolo, è tornato, io così lo perdo. No, lo perdete se lui non vi ama, se non ha nessun sentimento nei vostri confronti e voi lì capite che voleva solo una cosa, perché se dovete avere un uomo nella vostra vita, lo dovete avere per star bene, non per star male e averlo a tutti i costi equivale a non averlo. È come quando vi dico la pace a tutti i costi è più deleteria della guerra e voi ascoltate Gremori ogni tanto. Se vi volete più bene, ve ne vorrà anche il vostro partner o il vostro augurato partner. Un altro motivo per il quale un legamento non va in porto è perché la persona, mi sono capitate delle persone, mi hanno commissionato un rito e nel frattempo lo hanno commissionato ad altre 18 persone, perché oppure andavano a farsi consulti da altra gente in maniera tale che se io ne contatto 18 e commissiono 18 ritualistiche, una di queste 18 mi andrà a segno. Bene, facciamo che la metà di queste ti hanno fregato i soldi perché non sono veri strego o veri maghi, ok? L'altra metà starà lavorando con entità diverse, con situazioni diverse, staranno smuovendo delle energie. Io smuovo le mie in un modo, un collega può farlo in un altro, ma mai potranno coincidere o incontrarsi. Quindi cosa vuol dire questo? Che io annullo quello degli altri e viceversa. Quindi cosa avete fatto? Avete speso solo soldi. Però poi cosa si va a dire in giro? Che vi hanno imbrogliato tutte. No, siete voi che state imbrogliando noi, perché io sono stata imbrogliata tante volte, perché mentre mi commissionavano un rituale io scoprivo che lo commissionavano anche altre persone, oppure amiche mie che mi dicevano ma questa non è una tua utente? E io dicevo sì, perché? Ma per caso è ritualistica con te? Perché mi ha chiesto un consulto. Io non vado mai a dire se una persona ritualistica con me o meno, però intanto in quel momento lo vengo a sapere e io vengo a sapere sempre tutto. Uno, un altro motivo per il quale va a fallire un legamento è l'energia sessuale. Quando voi, vi ho detto prima, riaccogliete nella vostra vita una persona e dopo due minuti che l'avete fatto entrare in casa già siete a letto, scatenate con quell'atto sessuale durante il piacere, diciamo così. Quello che in esoterismo è chiamata magia sessuale. La magia sessuale si manifesta attraverso appunto il piacere sessuale, quel momento in cui si prova il piacere sessuale. Quel piacere purtroppo, se state lavorando con un'entità che usa la magia sessuale, come per esempio le pompe a gira o alcuni demoni, allora può andar bene, perché la strega sta indirizzando e canalizzando l'energia in un determinato modo. Quindi quel rapporto può anche servire al rito. Però se sta lavorando con un altro tipo di entità, voi avete fatto un danno incredibile perché la magia sessuale va a riscontrare, a scontrarsi, scusate, con un'energia diversa. In ogni caso, anche se io per voi stessi operando con la magia sessuale, comunque una persona che avete fatto entrare nella vostra vita da due minuti, perché era sparito magari, non è il caso di andare a fare determinate cose insieme. Quindi comunque è sbagliato, bisogna maturare dei tempi. È entrato nella vostra vita, ok, però con i vostri tempi adesso, non più con i suoi. Fatevi rispettare e vedrete come le cose nella vostra vita fileranno meglio con o senza l'intervento di una strega. Poi volevo dire un'ultima cosa, però riguardo ad un altro rituale che è quello delle maledizioni. Come mai molte volte le maledizioni non si concretizzano? Perché? Uno, perché le avete commissionate a più persone e questo idemo come prima. Energie diverse, entità diverse, perché io mi posso rivolgere a Baronza Medì, quell'altra mia collega, un demone, e quindi comunque sono energie che non si incontreranno mai, che non entreranno mai nello stesso asse e vanno a scontrarsi l'una nulla l'altra. Perché? Perché pensate perennemente a quella persona, cioè voi vi alzate la mattina pensando a quella persona e dicendo ma non gli succede niente a questo, ma non muore mai ammazzato, ma un tir che se lo schiaccia e lo leggo sul giornale mai gli capita, mai? Ma è normale che io spendo un euro al giorno di gazzette e non me lo ritrovo mai manco carcerato a questo qui? Ecco, il vostro pensiero lo protegge. Io ho operato, sono vent'anni che faccio ritualistica per terze persone, ma molto di più forse, e quindi ho operato maledizioni per altre, ogni settimana io lo faccio, però ne ho fatte anche per me, giusto? Quindi anche io qualche pietruzza dalla scarpa me la sono tolta. Ecco, quello che vi volevo dire è questo. Cari amici, quando ho smesso di pensare a queste persone, io vero le ho lette sul giornale, il vostro pensiero le protegge. Poi mi chiamano delle donne che sono state tradite, umiliate da ex mariti, da ex fidanzati, ma non perché vogliono la vendetta, perché sono state lasciate. Questo è sbagliatissimo. Se un uomo vi lascia perché non vi ama più, fategli fare la sua strada. È legittimo, avreste potuto anche voi smettere di amarlo. L'importante è che lo faccia con dignità, con serietà. Però se questa persona vi ha fatto del male, del male irrecuperabile, vi ha lasciato, ma non che vi ha lasciato come fidanzata o come moglie, ma vi ha lasciato come donna, vi ha trattato male, vi ha umiliato, vi ha insultato, vi ha offeso, non si è curato dei vostri sentimenti. Uomini che vanno via da casa abbandonando la moglie con i figli piccoli, senza neanche farsi più sentire, senza dare gli alimenti, andandosene con un'altra così, senza rispetto, da un giorno all'altro, farendo i figli, dicendo ai figli di preferire la nuova compagna piuttosto che loro. Ecco, questi uomini, o anche donne può capitare che si sono comportate male, magari hanno bisogno di una piccola lezione di vita. Però cosa succede? Che la persona che mi ha commissionato il rito, nel suo cuore, ancora gli vuol bene. Non se ne rende conto. La maggior parte delle volte è inconscio, ma quel bene, quel lumicino di amore, lo tiene in vita. Quindi volete dare una lezione di vita? Perché le maledizioni non devono essere mai intese come vendetta, invidia o gelosia, devono essere intese come giustizia. Ecco, dovete essere distaccate, dovete distaccare il pensiero da queste persone, perché altrimenti un rituale non funzionerà mai. Date fiducia alla persona che l'avete commissionato. Non c'è bisogno di scrivere due, tre, quattro, cinque volte a settimana. Non c'è bisogno di andare a farvi le carte, perché mi hanno contattato molte persone, mi hanno chiesto dei consulti e mi hanno detto, guarda, io ho commissionato un legamento a tizio, anche senza dirmi il nome, puoi vedere se lo sta facendo. Cioè, io ho sempre detto, io tesoro te lo guardo, mi hai pagato un consulto assolutamente, te lo guardo. Però lo sai che solo perché mi hai fatto questa domanda il rito è già annullato, anche se io adesso non dovessi girare le carte. Perché? Perché nel momento stesso in cui voi pensate, ma quello mi sta fregando? Ma mi ha fregato i soldi? Facciamo così, ora faccio un bel consulto, vediamo se il lavoro esoterico esce. Se esce, vuol dire che non me li ha fregati. Purtroppo, se non ve li aveva fregati, in quel momento l'avete annullato, perché gli avete tolto la fiducia. E togliendo la fiducia all'operatore che sta lavorando seriamente per voi, l'avete automaticamente tolta all'entità. All'entità che lui o lei hanno disturbato, per voi. E non è una cosa bella. Bisogna avere rispetto dell'entità e questo passa attraverso la strega. Di conseguenza dovete avere rispetto della strega. Questo non vuol dire sudditanza, vi dovete spaventare di me. No, rispetto. Che deve essere comunque un rispetto reciproco, però nel momento in cui viene meno da un lato, ricordatevi che viene nemmeno dall'altro. Perché le energie si abbassano. Quindi non abbassate mai l'energia della strega. Fatela lavorare. I risultati vengono, però non vengono subito. Una maledizione può arrivare dopo due anni. Dopo due, due anni e mezzo. Che voi non avete visto il risultato. anzi, la vita di quelle persone sta andando pure meglio. Ma chi è? Che sta succedendo? Ma quello ci ha vinto pure il superenalotto. Ma che cavolo è? Ecco, il rito di maledizione deve lavorare. Deve raccogliere la sua energia nei mesi, nei mesi, nei mesi. Questi possono diventare anni. Anche due anni, anche due anni e mezzo. Ma nel momento in cui si concretizzano, dopo due anni che avete chiesto una maledizione, bene, per queste persone non ci sarà più salvezza. E se ora vi starete chiedendo, quindi io devo andare a pagare una persona per fare una maledizione e per due anni devo aspettare che questa avvenga? Cioè due anni dove aspettare di vedere la mia soddisfazione? Sì, per due motivi. Uno perché c'è gente che la propria giustizia non se la vede mai. c'è gente che perde pure cause in tribunale perché dall'altra parte ci sono stati degli imbrogli e non vedrà mai giustizia. Quindi già il fatto di vederla fra due anni è una cosa bellissima perché c'è gente che muore veramente senza vedere, mi dispiace ripetere sempre la stessa parola, la propria giustizia, di vedere giustizia fatta. E io le conosco queste persone che sono morte e non hanno visto soddisfazione, hanno subito delle angherie per anni e poi sono morte loro. Quindi già che voi siete in vita e fra uno, fra un anno e mezzo, fra due potete avere la vostra soddisfazione, già avete vinto perché la vedrete. Avete questa certezza. Seconda cosa, la magia ha i suoi tempi e soprattutto con le maledizioni, con i legamenti che sono lavori d'attacco, i tempi sono lunghi. Uno slegamento di coppia può avverare in un mese, si può avverare in un mese ma anche in sei e se voi chiamate di continuo la strega a dire ma senti gremori ma io li vedo ancora insieme questi due. Nel momento in cui voi l'avete fatto, gli avete dato un altro mese di vita a questa coppia e soprattutto con le maledizioni. Se i tempi non vi piacciono, i tempi della magia, potete benissimo telefonare a un cecchino e farvelo sparare e quindi avete risolto. Cioè ci sono degli extracomunitari che prendono 3000 euro per sgrozzarvi una persona. Dico io se ne conoscete qualche ed uno, magari mi passate anche il numero di telefono. Però è così, la magia è i suoi tempi. Rispettate la magia perché una strega era rispettata una volta e su 100 richieste di rituale, 90 ne andavano a colpo sicuro. Adesso questa percentuale è scesa a 70 e il mio insuccesso lo vedo soprattutto con i legamenti. Perché ci sono molte persone che hanno, perché creare una pagina facebook si fa in due minuti adesso, mettono una bella foto di una palla di cristallo, quattro carte buttate lì. Selene, Selene, figlia della luna, ritualista, e Kate, sacerdotessa grande. Io ho un'amica che è un gruppo, si chiama veramente Selene, figlia della luna, me lo sono ricordata in questo momento, lei non è una giarlatana, lei è una persona per bene. Mi è venuto in mente che ho fatto forse l'esempio sbagliato perché ho detto Selene e mi è venuta figlia della luna, forse perché mi ricordavo incosciamente questa mia amica, una splendida persona, anche un gruppo. Non stavo parlando di lei, ecco, chiedo scusa. Però Giovannina ritualista, Antonella Cartomante, grande sacerdotessa del sapere, grande mago di questa ceppa. Ecco, creano queste pagine e poi mettono della pubblicità in giro, lo rivuoi, 15 giorni ed è da te. Si prendono i soldi che molte volte sono anche cifre molto spicciole, per fare cotto e mangiato, per lavorare sulla quantità e poi magari li bloccano. E soprattutto non andate a contattare gente di cui non conoscete. Nella faccia, nella voce, c'è gente che mi dice che ha commissionato dei rituali, ha speso 5, 600, 700 euro, con delle persone con cui ha solo chattato tramite whatsapp o tramite addirittura messenger da profili falsi. Chi è questa persona? Molti di loro hanno un nome italiano ma dietro ci sono anche africani che non fanno ritualistica, solo che a voi sembra che ogni volta che si parla di Africa la ritualistica sia più forte. Voi non avete idea di quanto è potente la magia popolare italiana o comunque anche la celtica, l'induista, tutte le magie sono potenti. Non c'è né una meno potente o più potente di un'altra. Il potere sta nell'usarlo, nella strega, giusto? Ma questo è un altro discorso. Non andate a dare retta a persone che vi mandano conti correnti stranieri della Nuova Guinea, del Congo, della Polonia. Le persone le dovete conoscere. Non devono avere paura di farsi vedere perché si dice male non fare, paura non avere. Quindi state attenti perché la maggior parte delle volte siete il peggior danno di voi stessi. Con questo io vi saluto perché doveva essere un video di pochi minuti, però poi mi sono fatta prendere dalla chiacchiera, da Radio Gremory e tutto. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!